L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha un nuovo direttore sanitario. Si tratta di Vito Campanile, già direttore sanitario delle ASL di Barletta Andrea Trani e Brindisi, da giugno scorso ad oggi è stato direttore medico dell'ospedale civile Lorenzo Bonomo di Andrea. Nominato con grande soddisfazione dal direttore generale Alessandro delle Donne, Campanile, che subentra il dottor Pietro Milella, cessato dall'incarico di direttore sanitario dell'oncologico barese il 16 marzo scorso, è laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Bari con un'attesi in medicina del lavoro ed è specializzato sia in igiena e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma che in medicina del lavoro all'Università di Bari. Il DG delle Donne e il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Gero Grassi, hanno ringraziato per l'impegno profuso, per la professionalità e la profondità il dottor Milella che ha dato un importante contributo all'organizzazione e rilancio dell'Istituto e hanno dato il benvenuto al dottor Campanile, certi che con la sua esperienza e le sue competenze affermano darà un prezioso apporto all'ente.